Ragazzi, ben trovati in questo video. Oggi parliamo di come usare i grassi in maniera efficace nella dieta. Tutti quanti hanno paura di ingrassare o comunque di non dimagrire perché magari si assumono troppo grassi. Però poi, per contro, tutti quanti, per consuetudine, per dimagrire cosa fanno? Tolgono la pasta e il pane. E mica sono grassi quelli, quelli sono carboidrati. E allora, cosa diavolo bisogna fare con questi macronutrienti e soprattutto con i grassi? E allora il nostro esperto in nutrizione, Cristian, ci illumina a riguardo. Sì, allora, intanto parlando di grassi, normalmente nella nutrizione classica ci sono un po' di capelli alzati. Perché quando si parla di grassi si intendono dei macronutrienti che fanno ingrassare. Cioè perché è come se noi fossimo un sacchetto water, tutto quello che buttiamo dentro ce lo ritroviamo. Questo è stato un pochino sponsorizzato dalla dieta mediterranea e dagli altri approcci dove prevedevano tanti cereali, soprattutto integrali, prevedevano pochi grassi e anche poche proteine. E al giorno d'oggi ancora la visione è quella. Nell'ambito fitness la visione è che una dieta sana è una dieta in cui si mangia petto di pollo, si mangiano carni bianche in generale, poca carne rossa, tanti latticini magri. Si mangiano pochissimi condimenti, appunto frutta e carboidrati di origine integrale tendenzialmente. Questo perché appunto per la cosiddetta dieta mediterranea, poi sì ci sono stati anche degli approcci ketogenici come la dieta Atkins, la Dukan, vi dicendo. Però tendenzialmente ci sono sempre stati questi due fronti, è quello verso cui si è schierato l'OMS oppure generalmente le grandi autorità è sempre stato quello con pochi grassi. Probabilmente anche perché c'erano degli interessi dell'industria alimentare dietro. Vabbè adesso noi non andiamo a dare adito alle tesi complottiste, andiamo a vedere invece come usarli questi grassi, perché addirittura i grassi, attenzione a questa cosa abominevole che sto per dire, i grassi fanno dimagrire. Esattamente, perché? Intanto andiamo a vedere i meccanismi che stanno dietro al consumo di grassi e perché fa bene. Allora intanto possiamo dire che una dieta con pochi grassi ci fa male, almeno sul lungo periodo ci fa male. Perché ci fa male? Perché il nostro corpo perde la capacità di sapere utilizzare i grassi come fonte energetica. Più grassi mangiamo, più grassi no, però nel senso se mangiamo la giusta quantità di grassi il corpo li sa utilizzare, quindi li brucia. Mentre se noi non li mangiamo più questi grassi il corpo perde la capacità di bruciarli, quindi perde la cosiddetta flessibilità metabolica. Quindi cos'è la flessibilità metabolica? È la capacità di spostare, di shiftare da una fonte energetica, quindi dai carboidrati tendenzialmente, verso un'altra fonte energetica, i grassi. Ciò significa che quando siamo a digiuno il corpo passa dall'utilizzo del glicogeno, che sono carboidrati dei muscoli, dei zuccheri, a consumo di grassi. Quindi non ha più zuccheri nel sangue, cosa fa? Va a utilizzare le nostre riserve adipose. Infatti qua apro una parentesi. Attenzione ragazzi, il muscolo a riposo, un muscolo soprattutto allenato a riposo, utilizza i grassi, prevalentemente i grassi. E questo è un po' anche che arriva, come dire, si arriva a definire che gli allenamenti con i pesi, l'allenamento contro resistenze, è migliore dell'allenamento aerobico per dimagrire. Proprio perché tonificando di più il muscolo con i pesi, quando si trova a riposo, sarà un miglior consumatore di grassi. Ecco da dove arriva questa cosa, che anche tanti mi scrivono, mi hanno detto che è meglio fare pesi piuttosto che aerobica per dimagrire. L'aerobica va benissimo, va benissimo soprattutto in chiave salute, migliorare la circolazione sanguigna, però se dobbiamo parlare di effetto brucia grassi, l'allenamento con i pesi, in questo senso, è migliore. Proprio per la questione della flessibilità metabolica. Vai, Cristian, che ricedo la parola. Per quale altro motivo i grassi sono importanti? Intanto, abbiamo detto prima per la flessibilità metabolica, perché comunque insegnano al corpo a bruciare grassi, ma anche per un discorso di sazietà e un discorso di gusto. Se noi andiamo a introdurre in una dieta dei grassi, il gusto migliora degli alimenti, ovviamente, e migliora anche il senso di sazietà. Quindi, significa che andremo a cercare meno porcherie, meno zuccheri, tendenzialmente, meno altri alimenti, e riusciremo a sostenere questa dieta per lungo termine. Cosa che fondamentalmente non si verifica se mangiamo solo carboidrati in un contesto low fat. Tra l'altro, i grassi impediscono la cosiddetta carb addiction, cioè nel senso che se noi introduciamo una quantità sufficiente di grassi, non andremo poi a ricercare dei carboidrati durante tutti i momenti della giornata. Come ad esempio si verifica se uno mangia solo, che ne so, crackers integrali e frutta. Ogni momento sente lo stomaco vuoto e va a cercare di nuovo questi alimenti. Con i grassi ciò non si verifica, proprio per la cosiddetta flessibilità metabolica. Andiamo a vedere quindi qual è l'applicazione corretta per andare a introdurre i grassi. Allora, intanto, come dicevamo già in altri video, come sempre bisogna assumere una quantità non eccessiva ma neanche non scarsa. Quindi le quantità di riferimento potrebbero essere... Poi quello blu che era? Parliamo quello blu. Le quantità di riferimento possono essere 0,8 grammi al chilo a 1,4 grammi al chilo circa. Dipende da tutta una serie di condizioni, dalla persona, dal biotipo, dalla fase, insomma dipende dal grado di allenamento. Sì, dal grado di allenamento. Come vanno assunti questi grassi? Intanto, se possiamo dare due dritte sull'assunzione, notiamo che i grassi e i carboidrati insieme ad alte dosi fanno disastri. Quindi, quando assumiamo tanti grassi, bisogna ridurre i carboidrati. Viceversa, se assumiamo tanti carboidrati, bisogna abbassare i grassi. E questo è un aspetto molto importante. Infatti nel video parliamo sempre di ciclizzare i carboidrati, i grassi. Questa è una delle... mentre le proteine siamo sempre tutti d'accordo. Allora, una indicazione molto importante. Quando si buttano giù tanti carbo, devono essere puliti. Puliti cosa vuol dire? Tanti me l'hanno chiesto anche nei messaggi, in base a quello che abbiamo detto in video. Puliti vuol dire semplicemente che sono carboidrati che non hanno basse dosi di grassi. Esatto, quindi nel tempo, come diceva Claudio, cosa faremo? Quando nei giorni on andiamo ad alzare i carboidrati, e nei giorni off li andiamo ad abbassare, facciamo l'opposto per i grassi. Quindi, nei giorni in cui ci sono pochi carboidrati, andiamo a mettere tanti grassi. Viceversa... Oh che belle burbe gaussiane, mi sembra di essere tornato a scuola. Ok? Quindi questo cosa ci permette? Ci permette di, nei giorni in cui ci alleniamo, di andare a mangiare tanti carboidrati e di stimolare appunto la sintesi proteica, quindi andare a stimolare la nostra massa muscolare. E quindi in questi giorni alzeremo anche la leptina, che la leptina è un ormone prodotto dai nostri, dalle cellule adipocitarie, quindi dai adipociti, che va a impedire il nostro metabolismo di bloccarsi, di andare, di abbassarsi. Però, nei giorni in cui invece, nei giorni off, adesso lo segno anche, giorni off dove non sono previsti allenamenti, dove non ci alleniamo, andiamo ad alzare i grassi. In questo modo cosa succede? Il nostro corpo impara, quindi continua a utilizzare i grassi come fonte energetica. Quindi, chiaramente qua il deficit calorico sarà più basso, rispetto ai giorni off. Però, facendo questi giorni in cui vengono caricati i grassi, il corpo imparerà a utilizzarli e di conseguenza, nei periodi di cutting, in cui andremo a scendere, saprà utilizzare e manterrà l'utilizzo di questi grassi alimentari. E quando, ti faccio io una domanda, quando i giorni off che teniamo i grassi alti, i carboidrati, quanto devono rimanere come sogna minima? In quel caso lì, i carboidrati potrebbero rimanere dai 50 ai 100 grammi, insomma, la quota necessaria è per i nostri organi, per gli organi che utilizzano, sono dipendenti dal glucosio. Però, ragazzi, attenzione, tanti grassi, però, attenzione, imparate anche a controllarli, nel senso, adesso ci sono le app, noi usiamo FatSecret, MyFitnessPal, provate ad andare a segnare gli alimenti che mangiate. Se voi già mangiate il sottofiletto, le uova, un pezzettino di grana, un po' di condimento, attenzione che ci siamo ai comuni grassi, quindi non c'è bisogno di, come dire, sfondarsi di olio, margarina, junk food, lì andiamo veramente a quantità esorbitante. Qui il monito è più che altro per le persone che hanno sempre mangiato petto di tacchino, fesa e quant'altro che, insomma, gallette di riso, dicendo, per riuscire un pochino a uscire da con l'ottica di sempre di ricercare alimenti senza grassi, ma ogni tanto puntare anche sulla carne rossa, puntare anche su alimenti come il grano, un pochino più ricchi. Un'altra cosa che possiamo dire sui grassi è relativa all'aspetto della qualità, perché da sempre ci hanno insegnato che i grassi buoni sono i grassi insaturi, cioè quelli che derivano dagli oli, dai fonti vegetali, dai fonti vegetali in generale, mentre ci hanno sempre detto che i grassi saturi, quindi quelli che derivano da fonti animali, sono il veleno assoluto. Ecco, su questa cosa andiamo un pochino a ristabilire quello che effettivamente corrisponde alla realtà, perché i grassi insaturi è vero che fanno molto bene, però allo stesso tempo anche i grassi insaturi possono fare bene, certamente sempre rispettando le dosi e rispettando un'ampia varietà, però i grassi insaturi hanno molte funzioni nel nostro organismo, tra cui riparano, intanto sono costituenti delle pareti cellulari, del membrane cellulare, scusate. Poi vengono utilizzati, ad esempio, il metabolismo delle ossa e del fegato, vengono utilizzati dal sistema immunitario e sono tra l'altro una delle fonti cardiache di energia per eccellenza, quindi occhio perché i grassi saturi non vanno demonizzati. Ecco, in che rapporto potremmo introdurre grassi saturi con grassi insaturi? Quindi diciamo grassi di origine animale con grassi di origine vegetale? Diciamo che dipende anche dalla quantità che andremo ad assumere. Però tendenzialmente dal 40 al 60%, dal 50 al 50% è a favore dei 40 saturi, 60 in saturi. Sì, o viceversa. Comunque tendenzialmente più varietà assumiamo anche di grassi meglio è anche per andare a ristabilire l'equilibrio omega 3 e omega 6, che è molto importante, ma su questo lo racconteremo in qualche altro anno. Allora, benissimo. Allora, siamo arrivati alla fine di questo video. Cosa ci portiamo a casa alla fine di questo video? Che i grassi vanno consumati. Ovviamente tutto il discorso che abbiamo fatto è riferito soprattutto alle persone che si allenano. Chi si allena è sempre molto più facile la questione perché i muscoli funzionano bene, la massa magra è efficiente e quindi è tutto più facile da mettere in pratica. Quindi ci portiamo a casa che i grassi vanno assunti, anzi i grassi se assunti senza i carboidrati, quindi separatamente rispetto ai carboidrati, fanno addirittura dimagrire, ok? E viceversa se assumiamo tanti carboidrati però teniamo bassi i grassi a quel punto. Ed ecco che la ciclizzazione dei nutrienti si regola da sola qui in maniera ottima. Bene, con questo è tutto, ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao! Ciao ragazzi!